Danpia in Singapore 2014, buonasera in diretta qui dalla speciale città, dalla città Diamante dove si sta svolgendo la finale di questo campionato mondiale femminile delle prime otto più forti giocatori del mondo in testa ci sta la Bosnierci, la danese che cercherà di scalare davvero di nuovo le classifiche dopo essere stata numero uno nel 2010 grande vittoria oggi contro la Kubitova, fortissima anche lei uno spettacolo degno di questa città Diamante dell'Asia e di tutto il mondo che ha conquistato l'appalto per 4 anni, fino al 2018 dalla WTA Singapore on top of the world un abbraccio da tennisgalaxy.biz e a domani WTA Singapore 2014